Due colpi di pistola, fortunatamente a salve senza colpire persone. Il terrore tra i clienti, una persona fermata. Attimi di paura questa mattina, pochi passi dagli scavi di Pompei. Poco dopo mezzogiorno, un uomo in sella a una moto ha esploso diversi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di un noto ristorante della zona. Sul posto sono giunti i carabinieri di Torre Annunziata, guidati dal Maggiore Simone Rinaldi. Secondo la ricostruzione, la persona che ha sparato è in corso di separazione dalla propria moglie. Sarebbe proprio questo il nodo centrale su cui i militari dell'arma si stanno focalizzando. All'improvviso l'uomo è entrato nel locale e ha sparato alcuni colpi a salve. L'autore del raid è stato fermato ed è stato trattenuto in caserma per rispondere alle domande degli inquirenti. La pista più accreditata è quella passionale.